Adesso è partito Sanetti, Sanetti ancora per Recoba, prova Recoba il tiro di sinistro, splendido gol! Recoba, 3-1, splendido gol di Alvaro Recoba, l'Inter si porta sul 3-1, tiro annunciato quello di Alvaro Recoba che ha preso la mira e ha piazzato il pallone nell'angolino, irraggiungibile per Berti. Recoba ha bersaglio per la quarta volta in campionato e per la quarta volta in trasferta. Dopo i gol a Reggio Calabria, a Piacenza e Covo, ha colpito anche a Dempoli. 25 metri abbondanti, splendida precisione, è la rabbia che vogliono vedere i tifosi dell'Inter, non la reazione precedente, ma che precisione, che gol! 3 metri, 5 metri di spazio, una fucilata e Berti non ci potrà mai arrivare.